Ciao a tutti da Eleonora! Da qualche anno ci siamo tutti aggiornati per poter comunicare a distanza. Non sto parlando solo di messaggi e chiamate telefoniche, ma anche di videochiamate e conferenze online. Molti di noi si sono dovuti arrangiare con quello che avevano in casa e altri non hanno ancora gli strumenti necessari per poter essere al passo con i tempi. Oggi vi parlo di una webcam di casa Microsoft dall'ottimo rapporto qualità prezzo, la webcam Microsoft Modern. È molto semplice da utilizzare, si interfaccia automaticamente con il sistema operativo dopo essere stata collegata tramite il cavo USB da 1,5 metri. Inoltre si può posizionare in diverse angolazioni e su diverse strutture. Con il braccio pieghevole la potete appoggiare sullo schermo del laptop, potete incastrarla sopra ad un monitor oppure la potete piegare ed appoggiare sulla scrivania o su un treppiede. Pesando solo 88 grammi e con una lunghezza di 50 mm e una larghezza di 36 mm è perfetta per ogni situazione. Potete anche portarvela facilmente con voi dentro la borsa del laptop. Dato che è sempre importante apparire al meglio nelle videochiamate, Microsoft ha deciso di implementare la tecnologia HDR e TrueLook che assieme migliorano sia la qualità dell'immagine, che avrà colori e dettagli ben definiti, sia l'esposizione della luce e della messa a fuoco. Infatti queste ultime saranno automatiche. Potete davvero tirare un sospiro di sollievo, non dovete infatti occuparvi di nessun setup per utilizzare al meglio questa webcam. La definizione della camera è di 1080px ovvero Full HD, i video verranno registrati a 30 frame al secondo e con un campo visivo di 78 gradi. Chi è particolarmente attento alla privacy sarà felice di sapere che è integrato all'interno della camera un otturatore che serve per coprire completamente l'obiettivo. In questo modo anche se qualche sito o malintenzionato attivasse la vostra camera si troverà davanti uno schermo completamente nero. Se avete già altri dispositivi della linea Microsoft Modern potrete interfacciarli con questa webcam per aggiungere il massimo delle prestazioni. Ad esempio vi consigliamo di provarla con l'altoparlante Microsoft Modern per avere videochiamate perfette a basso prezzo. Potete trovare la webcam Microsoft Modern su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Mi raccomando supportate il nostro lavoro mettendo un mi piace ed iscrivendovi al nostro canale YouTube e se vi va lasciateci anche un commento. Ciao a tutti e al prossimo video!